E questo è il cane che cerca le sue lucertolini. Buffy, vai a vedere. Che ha fatto un buco gigante? Vai a vedere dove le trovo. Buffy, un buco gigante? Un buco di Buffy. Guarda, guarda, guarda. C'è che c'è la faccia all'edentro, guarda. Guardate. Buffy, vai... Mi passa che ha fatto. Guarda, guarda. Minchia, il muso. Non c'è più. C'è una cosa, come si chiama il buco? Ha dato il buco. Dica, sta cercando un altro palo adesso. Adesso ha caduto il palo. Alla fine ci arrestano poi questi pali. Buffy. Vai Buffy, vai. È fatto di vieto danneggiare i proti in qualsiasi maniera. Ok. 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 Ok.